non faccio più di qua mananca di qua deve arrivare di là in terza no no devi farla manetta qua manetta tecnica un cazzo no devi farla al 300 all'ora e arrivare sulla diritto dopo quando sei la dico adesso giro faccio tutto però deve essere già sulla sotto lo scordi ma 300 all'ora però no è tutta così a scendere se lui continua su e giù vedi chi è che l'ha sgarlata tutta no ma non ce la fa perché non ha abbastanza trazione a prenderla porti la e poi chiudi guardate guardate dove cazzo ha ruzzata figaro guarda 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 lo madonna del sono in un brutto posto e non posso neanche scappare sono in un brutto posto non posso neanche scappare bisogna da lineato si si guarda non so come fa male in sci io ho sesso adesso 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 va bene va bene dire gira dire dietro dietro è perché se no non scendi più è ma tirarlo è scavata tutta è scavata tutta cioè di qua venivamo su normalmente bravo dritta ancora max adesso vado ma è andato giù via arrivo vedi proprio che non tiene un cazzo eh guarda che il leo ha fatto uguale si è fermato qua eh il leo l'ha fatto uguale a te è arrivato qua eh il leo maurizio qua è arrivato al posto di fare come te che si è scivolata la portata questo si è fermato qua